Ma dove vai? Dove mi portano le gambe? Ha detto c***o o mi sbaglio? Ma non sono Marvis, lo senti? Mi dà al caso la sorda Dov'è quella scimmia? Vabbè, questo qua è pieno di carabili Prima gli ha detto che lo picchiava con la frusta Comunque, siamo qui a Lingotto Per Inizierà a fare, se volete fare Se volete che fa una serie Allora, il gioco si chiama Il tempo della crisi 4 Team Crisis Qua è un gioco che resiste È un gioco Lui che con le pistole se la cava abbastanza No, allora Non specifico, le pistole intendi queste qua Non che fanno così Sì E va Mi è un po' smentiato però Va bene Se volete una serie su questa qua Me lo scrivete sotto nei commenti Cioè, me lo sotto a casa mia la scrivania Rima non voluta E niente Mettete i pollici, i likes Non ridere Manu perché I likes Se questo video vi è piaciuto Polincione su Commentate Non sui social network strani Su Youbriner Che non è un social network Starace E niente Ragazzi scrivetemi se volete Sto Staserie di gioco Toon Clonics 4 Il tempo della crisi 4 Ciao E frustate la scimmia Grazie a tutti